Mario Berlucci Mario Berlucci Mario Berlucci Mario Berlucci Mario Berlucci Guardavo il campo, no? Guardavo il campo e pensavo come cazzo ho fatto a fare quella cosa da qualla? Adesso non ce la fare mai! Però stare qua veramente di nuovo sotto a voi non per una giornata emozionante veramente vi ringrazio per questo invito e vi voglio bene sono cresciuto insieme a voi e vi fa piacere essere qui con voi grazie Bello Berlucci Bello Berlucci Bello Berlucci Bello Berlucci